L'alimentazione è un settore nel quale si riscontrano delle preoccupazioni sia per la salute ma anche per la forma fisica. Ci sono mode più o meno fantasiose che portiamo a tavola e a volte sono anche un po' pericolose. Esiste una grande varietà di pregiudizi e di false notizie, luoghi comuni. Insomma, tutto questo ce lo racconta un mito che è il professor Marcello Ticca, che è vicepresidente della Società Italiana delle Scienze dell'Alimentazione, in questo libro che si chiama Miraggi alimentari, 99 idee sbagliate su cosa e come mangiamo. In realtà il numero 99 è puramente perché l'essere il limitato, perché se no ci sarebbe da dire. Beh, ho dovuto fare una certa raccolta sia di cose molto vecchie, di cose nuove che compaiono ogni giorno sulla rete, di tutte le cose che mi sento dire, osservazioni che mi sento fare giornalmente. E credo che sia importante parlarne, ridimensionarne certi miti a altri, aggiustarli un pochino, perché per molte persone è questo delle credenze alimentari che si diffondono fra tutti quanti in maniera incontrollabile, per molte persone questa è l'unica fonte di informazioni alimentari, quindi a volte possono determinare anche dei cattivi comportamenti alimentari, quindi parlarne è utile, penso. Certo, poi il disastro è se si combinano più falsi miti, quindi si fanno più cose sbagliate e uno ci si nutre facendo così il latte. Andiamo sul latte dove c'è un florileggio di stupidaggini che vengono dette. Ce ne elenchi qualcuno? Sì, il latte è uno di quegli alimenti che ha subito negli ultimi anni una vera e propria aggressione, nel quadro della lotta ai veleni bianchi cosiddetti. Chissà perché, c'è questa moda, indubbiamente alcune persone non tollerano bene il latte, e molte volte si tratta solo di intolleranza al lattosio ed è più che sufficiente prendere il latte del lattosato per non rinunciare all'importante valore nutritivo, apporto nutritivo di questo alimento. Teniamo presente che latte e derivati coprono il 55% più della metà di tutto il fabbisogno di calcio della popolazione italiana, nella dieta italiana. Quindi doverci rinunciare effettivamente crea dei problemi dal punto di vista dell'apporto di calcio, che è un elemento molto importante. Di un verdogno lo inquietante, ma in realtà è salutare, questi concentrati di frutta, in Inghilterra, nei paesi anglosassoni li chiamano smoothies, quindi insomma un conglomerato di frutta e verdura che va bevuta. Ma non è la frutta e la verdura e basta, insomma è un modo alternativo ma non sostitutivo, credo. È vero, è molto una moda di oggi fare dei centrifugati o degli estratti. Non è che sia da criticare a priori, però non deve essere una scusa per non mangiare la frutta. Cioè, dato per scontato che la frutta è opportuno mangiarla più volte al giorno e può essere mangiata in qualunque momento della giornata. Approfittiamone per citare un altro falso mito, non si mangia la frutta alla fine del pasto. Non è vero, tranne poche persone che soffrono di dispepsia gastrica, la frutta benissimo va mangiata alla fine del pasto, va bene perché aiuta al senso di sazietà, va bene perché con la sua vitamina C aiuta l'assorbimento del ferro degli alimenti, il ferro è un elemento critico della nostra dieta, va bene anche perché sostituisce il dessert, ha un certo effetto anche di detersione dei denti. Comunque, anche chi non la voglia mangiare alla fine del pasto, l'importante è mangiarla in qualunque momento della giornata, la frutta può essere una prima colazione, può essere uno spuntino, può essere qualcosa alla sera prima di andare a dormire. Se proprio non c'è modo di mangiare la frutta o si è in giro, non si ha modo di avere un frutto, allora possiamo anche ricorrere ai centrifugati o agli estratti, però ecco, non devono essere sostitutivi, possibilmente. Allora, noi torniamo da una pausa al caffè. Il caffè ogni volta c'è il dramma, nei bar vedi 700 bustine diverse perché c'è il dolcificante, c'è lo zucchero normale, lo zucchero di canna, altri tipi di zuccheri, per esempio l'oxilitolo. Ecco, facciamo un pochino di chiarezza anche su questo. Non è necessario, quando non sia proprio prescritto, usare dei sostituti dello zucchero, sostituti a calorici come appunto l'oxitolo, la saccarina o altro. Si può benissimo usare in un quadro di un'alimentazione normale il cucchiaino di zucchero nella tazza di caffè. Ci sono persone che scelgono lo zucchero cosiddetto di canna, cioè lo zucchero bruno, che è uno zucchero come se apportasse meno calorie dello zucchero raffinato e non è vero assolutamente. Non fa dimagrire insomma lo zucchero bruno, è semplicemente uno zucchero che non è stato raffinato fino alla fine, quindi ha dei residui di melassa che gli danno sia quel sapore bruno che anche quel colore caratteristico. Ecco, l'unico aspetto positivo, se vogliamo essere pignoli, può essere che si scioglie un po' meno, quindi a volte rimane una parte nella tazza e quindi alla fine una parte la ingeriamo in meno. Giusto questo può essere la differenza. A meno che con il cucchiaino non vada a ravanare nel fondo, cosa che fa la sottoscritta, che è ancora più gustoso soprattutto se si mixa con un pochino di caffè e residuo. Andiamo avanti, uova. Si dice per esempio che le uova dal guscio più bianco o dal tuorlo più arancione siano più nutrienti. Non è vero. Questa è una vecchia idea che dura a morire. Il colore del guscio dipende solo dalla razza delle galline, quindi è un fatto genetico, non c'entra niente col valore nutritivo dell'uovo, neanche il colore del tuorlo. Il colore del tuorlo è dato da certe sostanze pigmentanti che poi sono delle provitamine, sono delle sostanze che poi diventano vitamina A nell'organismo e fra l'altro hanno un effetto antiossidante, quindi proteggono anche i grassi che sono presenti nel tuorlo. Però il colore non rappresenta un aumento di valore nutritivo, per cui questa idea che risale forse ai tempi della guerra, quando uova di colore più pallido indicavano galline nutrite peggio, questo è un fatto che adesso non esiste più. Allora, adesso attenti a casa. Il professor Ticca ci riabilita la pasta a cacenna, cosa di cui ci priviamo, perché ho la pasta, i carboidrati, ingrassiamo, un disastro. No, sì, no. Ecco, altra credenza un po' folle che è nata e si è diffusa soprattutto sul web. Ci sono persone che la sostengono, persone un po' venditori di fumo, chiamiamoli così. Fra l'altro non neanche si mettono d'accordo su quale sia l'ora del giorno in cui scatterebbe una specie di coprifuoco, per cui non si devono mangiare né pasta né alimenti cosiddetti ricchi di carboidrati. Alcuni dicono le 18, altri le 15, senza un motivo al mondo. C'è un'unica cosa, la sera possiamo mangiare quello che vogliamo, sia alimenti ricchi di carboidrati che alimenti di tipo proteico. L'unica cosa che sta emergendo pian piano probabilmente è che sulla base del funzionamento del nostro orologio biologico forse c'è una più complessa, più difficile utilizzazione delle calorie, dell'energia alimentare la sera. Quindi il Consiglio Generale che sta prendendo piede, ci si sta ancora lavorando, è effettivamente che sia bene alleggerire il pasto della sera. Quindi una distribuzione nella giornata in cui si privilegia la prima colazione e il pranzo di metà giornata, una cena più leggera, aiuta ad avere minor peso a parità anche di introito calorico, meno grassi e anche minore glicemia e insulinemia. Quindi aspetti favorevoli. L'ultima domanda velocissima, so che lei è laser in questo, è pane. Molti lo sostituiscono con i crackers, con i grissini, pensando che essendo più piccolini, più scrocchiarellini, eccetera, eccetera, siano meno grassi. Non è vero? Nulla. No, assolutamente, è il contrario. Lo vedo da moltissime persone. Forse perché i crackers e i grissini danno questa sensazione di leggerezza, di friabilità. In realtà hanno più grassi del pane, hanno più calorie, sono circa 400 e più calorie ogni 100 grammi contro le 270 del pane normale. E fra l'altro forse danno l'impressione di poter controllare meglio il consumo con i pacchetti rispetto alle fette di pane, però sono più calorici del pane, quindi vanno usati con maggiore cautela. Un unico vantaggio è forse una spigolatura, che col pane noi possiamo fare la scarpetta, quindi raccogliere il sugo del piatto, mentre invece con i grissini non li possiamo fare. Questo è l'unico vantaggio, se vogliamo. Grazie per la simpatia, ma anche e soprattutto per la competenza al professor Marcello Ticca. Ricordiamo Miraggi Alimentari 99, idee sbagliate su cosa e come mangiamo.